Ciao a tutti amici di Shutter Edizioni, vi ruberò soltanto pochi minuti perché è arrivato il momento di annunciare ufficialmente l'uscita del nuovo volume in casa Shutter Edizioni soggettiva di un delitto a firma di Antonio Tentori e che abbiamo già anticipato apre insomma quella che è la nuova collana Shutter Blood Frames dedicata appunto alla narrativa di genere in particolare avrete dunque dei thriller e degli horror anche dei romanzi che avranno diverse firme d'autore e che sono già in lavorazione quindi il nostro titolo apripista è appunto soggettiva di un delitto di Antonio Tentori che vi leggo in brevissimo la sinossi dunque a Roma si succedono due delitti simulando per entrambi una disgrazia lo sceneggiatore Francesco Terzi ha scritto un copione liberamente ispirato a un omicidio avvenuto a Bracciano e rimasto insoluto mentre Francesco, il regista di Aleme Mantovani e il suo aiuto effettuano un ultimo sopralluogo a Bracciano prima dell'inizio del film qualcuno si impadronisce della sceneggiatura potrebbe essere un minaccioso messaggio rivolto al regista, lo sceneggiatore lo aiuta a scoprire l'autore del furto ma l'assassino intanto è costretto a uccidere ancora ecco questa in breve la trama di soggettiva di un delitto 256 pagine come potete poi qui intanto vedere di un agghiacciante thriller un giallo che rende omaggio al nostro miglior cinema di genere e che chiaramente è scritto da un altro grande autore del nostro cinema appunto lo sceneggiatore e scrittore Antonio Tentori noi quindi vi annunciamo che finalmente potete richiedere la vostra copia scrivendo a info-lasciateleedizioni.com oppure venendo a Giallo Berico il 18 febbraio dove ci sarà anche Antonio Tentori e quindi ci sarà anche l'apposito firma copie del nuovo romanzo soggettiva di un delitto grazie a tutti e a presto grazie a tutti